guarda che spettacolo al di là che sta roba qua non ho capito che ce lo fa forse per fare le resistenze che ne so sono delle resistenze cotone io li avvolgo faccio 5 6 spire giusto pippo e li utilizzo me ne mandate un botto spettacolo neanche innokini mi manda tanta roba poi qui ci sono questi gommini di ricambio guardate che spettacolo qui c'è il kentakis immagino senza etichetta questa cosa la denuncerò a chi si occupa di tpd e poi guardate qui che c'è guardate che spettacolo la bellezza dello scatolino notate che c'è anche il numero 10 10 come baggio il vecchio dello svapo e poi io voglio far vedere questo spettacolo qui ma che bello veramente fatto due ring sotto fate come lavorato lavorato veramente con maestria che spettacolo che spettacolo